Ma allora sicuramente è stata una bella partita, il risultato lo dice ma a parte il risultato siamo anche riusciti a giocare quello che abbiamo provato in settimana, quindi questi due giorni e quindi siamo super contenti. Personalmente anche sono contento, ho fatto la prima partita dopo sette mesi, esatto quasi sette mesi e niente, super contento. Ovviamente ho avuto un'ottima impressione ma non solo per questa partita, anche durante gli allenamenti e negli spogliatoi c'è un bel gruppo, un bel clima, è una cosa importante per poter raggiungere un obiettivo tutti insieme. Certo non bisogna accontentarsi, già da stasera bisogna pensare all'Arezzo e preparare la prossima partita. È un campionato che appena molli qualcosa rischi di perdere le partite, quindi bisogna stare sempre concentrati anche quando si è in vantaggio.